Allora, mazzo bicycle rosso, insomma, non ha neanche bisogno di presentazione. Qua abbiamo i quattro bambini, insomma, dai quattro ragazzi più che bambini, che non possono tornare a scuola, quindi è la scuola, cioè la casa, scusate, non possono tornare a casa da scuola da soli. Ok, allora, cos'è che la Fedeli vuole fare? Primo ragazzo prende e va a casa. Da solo. Dopo prende e va a casa da solo. Un altro prende e va. L'ultimo che rimane, che si vede già dalla faccia che è un fedeliano, insomma, dice no, perché non possiamo tornare a casa da soli, dobbiamo aspettare i genitori. Lui, no, che ha il maggiordomo, che lo va a prendere, no? Ah, e purtroppo, purtroppo però è così, perché se i ragazzi vogliono tornare a casa, devono aspettare i genitori che tornano da lavoro con la macchinina o come cazzo che vogliono, e quindi i ragazzi tornano a casa uno alla volta, solo perché la Fedeli un giorno si è svegliata e ha detto che è bello andare a prendere i ragazzi. Ovviamente non ci sono altri jack nel mazzo. Quindi, grazie Fedeli. Veramente grazie al...